Comincia tra poco il match, Guy contro Cammy Sono due giocatori che non sono sicuramente molto abili Zombie già lo conosciamo, Tharmy l'abbiamo conosciuto questi due giorni Comunque, nonostante giochi da poco ci sta decisamente fare Comincia il match Di nuovo Per partire con un uppercut, non so per quale motivo si aspettava un salto di Guy probabilmente Ma l'upper che è andato a vuoto ed è stato punito naturalmente Non questa volta, punisci lui con un attimo uppercut anti-air Sono entrambi personaggi che fanno molta pressione e dell'aggressività Soprattutto il loro stile più classico di gioco Non bisogna trattare qua l'altro se si vuole avere la meglio in questo match Oh, Yaksatsu Maggi Per Guy Anti-air Adesso Zombie partaggio vita Ah ma c'è la mia interna con la combo E' un attacco stop che zombie si difende molto bene Allora, più o meno la stessa vita, forse è leggero partaggio zombie Però zombie all'angolo di stare attento Esce dall'angolo con un salto ma Ciammi lo prende in aria Grande giocata dell'olandese No, non entra la combo purtroppo per zombie Che avrebbe potuto chiudere il match al suo lavoro Adesso invece ho capito da giocare Ciammi lo pesca in aria Con un calcio debo di fortuna Perché con un calcio forte dovrebbe Sicuramente mandare la 2 KO E si sarebbe preso il round Guarda, stanno entrambi con un Un filo di vita E zombie si prende in round con una scivolata Primo round per zombie Bellissimo match fino adesso Attento un extra kick Chiammi Rogue Ma zombie si difende bene Focus Crumple Entra con la combo Lo lascia a terra Oper Head Molto bene zombie Molto bene Yes Hurricane Kick Anti-air Di nuovo Ancora, ancora Adesso è Chiammi Che stanno sotto con la vita Deve restare di più Focus assorbe Calcio di Kai Deve stare dentro Perché con una combo Chiammi può staccare Un bel 35% di energia Se non di più Entra col die kick Entra, ritardo il salto Molto bene Ma non connette totalmente la combo Che è una pesa Mette Charming all'angolo Ottima giocata di zombie Trade a suo favore Si prende il match Ottima giocata di zombie 1-0 Per lui 1-0 zombie Subito Secondo match Ah Charming Punisce Il calcio in corsa Di Kai Ottima punizione Continua Continua la pressione Ora c'è l'angolo Continua a mettere l'angolo Non lo molla Un secondo Fren trap Lo pesca Non connetta altri combo Non poi connetta una presa Lo lascia all'angolo Deve reagire Zombie anche perché Vicino lo stun Reagisce bene Ma Charming non lo molla Surtroppo interessa Riuscito a uscire Dall'angolo Anche se vantaggio vita Di Charming È Veramente ampio Tanto un ex Dai kick Zombie si difende Col focus Attenzione Dai kick Entra questa volta Connetta la combo E si prenderà un Charming Rogue Bella giocata Secondo round Entra in cross up Entra con tutta Quanto alla combo Atterra zombie Deve reagire Presa successiva All'ex Dai kick Molto bene Ok mi è sempre inventato Giuda con gli ex Dai kick Anche se è bloccato Attenzione Lo pesca con Un Ather cut In aria Ah no No Troppo presto La sciocata per zombie Gianmi lo prende Entra la combo Oh Tentano le posizie Il combo Purtroppo alisce Fortuna di zombie Zombie E adesso Zombie purtroppo Come si dice qua La canna del gas Avete poca vita Ma deve reagire Può ancora farcela Per fortuna No Whiffa 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 l'appercut E viene punito Non so per quale motivo Charming abbia fatto l'appercut Direi vero Zombie è lontano Ed è la terra Non si è lasciato Non si è lasciato sfuggire L'occasione Oh Ha peccato FTC Ultra Si prende il match 1-1 E' la giocata di Charming Comincia il terzo decisivo match Charming che è ucciso da pensare Zombie immediatamente Però adesso finisce all'angolo Che errore di Charming Ma Zombie non ne approfitta Che peccato Ne approfitta invece Charming Attenzione Adesso Charming però di nuovo all'angolo Zombie ha recuperato nonostante Di nuovo Punizioni non punite In questo match Non state veramente tantissime Oddio adesso gli entra Cancella Abbiamo visto tutti i colori in questo match ragazzi Veramente Punizioni non punite FTC falliti Poi recuperati Compresa Molti errori da partire entrambi in questo caso Immagino che nel modismo faccia la tua parte Ah Frame trap è molto bella di Charming Penso che entrambi siano veramente nervosi Non lo pensa stavolta con l'upper cut Sul salto Ah Di nuovo Spararo parato Zombie stavolta punisce di brutto Lo mette all'angolo Lo prende Lo prende Lo prende Legge lo freccia Amiro molto bene E risponde con una bellissima combo GX Tatsumagi contro Il Dai Kiki X Di Charming Lo spinge all'angolo Fa un po' di chip Per damage Per Arrove Sul focus No lo prende Lo pre Bella giocata Per il tuo bel match è stato E se stai neanche così veloci Mi hanno dato anche voglia per commentare Peccato per Zombie Zombie eliminato Charming Ora c'è Viare con tu belisio